Battle Royale Evitate il gas, andate alla zona sicura Serve a qualcuno Non è tutto Bene, Jet, diamoci da fare. Cassa di scorte individuata, va recuperata. Indica un punto di lancio, conduci tu il team. Compagno finito nel Gulag, chi sopravvive lì torna in prima linea. Compagno nel Gulag, se sopravvive può tornare in azione. Andiamo noi due, andiamo. Hanno conciato per le feste il vostro compagno. Lo rispecchiamo alla base. Obiettivi aggiornati in area. Un compagno ha il via libera per il rischieramento. Nemici nella... Ignorate quello che ho detto. In movimento. Obiettivi aggiornati. Passare alla prossima area. Obiettivi aggiornati. Obiettivi aggiornati. Obiettivi vuoi. Obiettivi. It acpecchiamo alla prossima area. Obiettivi aggiornati. Obiescchiamo alla prossima area. Obiettivi può bune. Obiettivi aggiornati. Obiettivi aggiornati. U.A.P. alleato in sorvolo, avvio scansione radar, tutte le casse di scorte trovate, ottimo lavoro. Ho marcato dell'equipaggio agli attrice trovata, c'è da salto trovata, stai perdendo terreno. Sì, c'è da salto trovata. Mitragliatrice leggera, qui. Mitragliatrice leggera, qui. Fucile di precisione, qui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ho marcato dell'equipaggiamento. In movimento! Vado. 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 U.A.B. alleato in sorvolo. Avvio scansione radar. In movimento! Metta scudo schierata! Gassi in arrivo. Zona sicura riposizionata. U.A.B. alleato in sorvolo. Avvio scansione radar. U.A.B. alleato in sorvolo. Avvio scansione radar. Batteria esaurita. Torretta fuori uso. Nemici nell'area! Avete del gas in arrivo. Ho marcato dell'equipaggiamento. Qui c'è equipaggiamento letale extra. Questa! 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 arriva il gas nemici in zona manca ancora qualcuno adunata nella zona sicura non 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 ma non 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 ne non 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 alleato Corazza qui in movimento Alla zona sicura Alla zona sicura Si sparano! E' altro che mi arrivo, è stato dentro nella zona sicura Ne mancano di essi Presto, dai! Mi hanno colpito! Nemici in zona Avete del gas in arrivo Mi hanno colpito! Occhio a dove spari! Gas in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata E' un'attacciaio! E' un'attacciaio! One, two, one, two! Grazie a tutti. Grazie a tutti.